Paolo Bonolis ha espresso tutta la sua preoccupazione per il figlio che sta attraversando un periodo davvero molto delicato. Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha deciso per la prima volta di condividere pubblicamente un periodo difficile della sua vita. Il giovane ha raccontato di come si è riuscito a superare un momento oscuro della sua adolescenza, facendo una profonda riflessione sulla vita e sulle sue fragilità. Ha spiegato di essere in terapia con una psicologa per affrontare traumi e disagi che gli hanno causato ansia e insicurezza. In particolare, ha ricordato un episodio chiave. A 11 anni, dopo aver contratto la mononucleosi, fu costretto a lasciare il calcio per sei mesi, il che lo portò a prendere peso e a chiudersi in se stesso. Questo periodo lo fece rifugiare nel cibo per cercare conforto. Tuttavia, la morte del nonno, che lo sosteneva, fu l'evento che scatenò in lui una svolta. Sette giorni dopo la sua morte, mi pesai e vidi che avevo raggiunto i 104 chili. Da quel momento, la mia mentalità cambiò, ha scritto Davide, ricordando la determinazione che lo aiutò a risalire da quel periodo buio. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.